rimanere troppo tempo seduti tra i banchi di scuola senza fare movimento incide negativamente sul benessere fisico e mentale di alunni e insegnanti e ora di svegliare il proprio corpo e la propria mente con esercizi studiati appositamente da realizzare a scuola rimanendo tra i banchi vedremo esercizi di riscaldamento di tonificazione esercizi per aiutare bambini e adolescenti ad assumere la corretta postura faremo esercizi a corpo libero ma anche esercizi utilizzando oggetti che normalmente portiamo a scuola come penne diari quaderni quando un corpo è mantenuto attivo anche il cervello ne giova ti aspetto al webinar il benessere tra i banchi di scuola